Michele Zocco Adele Sciortino Gino Correano E Tim Fares Salvatore Cicerone Calogero Battaglia Simone Baulecco Giovanni Sassetta Ivan Tranchina Osama Svoni Andrea Grillo Sebastiano Incastrone Giulia Cardile Nicola Martinelli Leonardo Grillo Cosimo Carinella Questi sono gli atleti che incroceranno i guantoni questa sera non dimentichiamoci però ci saranno esibizioni dei ragazzini partendo da Danilo Cantello Quintate il maestro Schirina qui sul ring Il saluto A seguire Salvatore Bramina Anche quando è andato Un applauso per il film gelessi contro Andro Lotto del film Palmei Andrea Grillo Lotto Quintate il film C'è Salvatore Cicerone Lotto il giudice di Agro Rosco lo posso andare a riloggiare sempre due riprese da due minuti ciascuno questo è il dono interno di questo calare il box monetario di Iguana verso le citture la padella di Iguana Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.